La situazione meteorologica sulla nostra regione, come testimoniato dall'immagine dell'infraorso del satellite, è caratterizzata da un flusso sud-occidentale che a tratte si presenta umido, pur se vi sono state anche occasioni per alcune schiarite. Nella giornata di domani arriverà un fronte, diciamo atlantico, con correnti umide sciroccali, si nescherà quindi vento di scirocco sulla costa, coperto con piogge diffuse, meno probabili e meno frequenti e più deboli a Trieste, invece più intense sulla fascia prealpina e anche localmente temporalesche e consistenti anche sulle altre zone della pianura e della costa. Quota neve in rialzo da 1.400 a 1.800 metri a fine giornata, vediamo con temperature che si porteranno fino a 16-17 gradi nei valori massimi sulla costa. Domenica il fronte si allontana verso sud-ovest, quindi ancora piogge residuo il mattino, specie a ovest, poi avanza un miglioramento con qualche schiarita da est, il vento da scirocco gira a bora moderata ma sarà una bora mite, infatti le temperature saliranno, vediamo, fino a quasi sfiorare i 20 gradi sulla pianura, un po' meno naturalmente sulla costa. Tempo stabile anche i primi giorni della prossima settimana, specialmente lunedì, con cielo in genere poco nuvoloso e senza precipitazioni, ancora temperature relativamente miti. Dall'osservatorio dell'Arpa, Arturo Pucillo vi saluta.